Ciao ragazze, bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi di un prodotto che mi è stato inviato gratuitamente da un'azienda, ma non si tratta di trucco, questa volta si tratta di gioielli. Come vedete, l'azienda in questione è la Sofil e vende in pratica gioielli come collane, orecchini e bracciali, come nel mio caso, personalizzabili, nel senso che si possono inserire i vari charms nei bracciali, nelle collane, a scelta, quindi sono personalizzabili in questo senso, però ci sono anche, se andate a guardare bene nel sito, dei charms proprio personalizzabili con le proprie foto, devo dire che sono rimasta veramente soddisfatta perché i charms sono fatti veramente molto molto bene. E poi sono in argento sterling, quindi sono veramente di ottima qualità, però se andate a paragonare magari questo sito qui, i ciondoli del sito, con i ciondoli che magari potete comprare da aziende più famose che ci sono in Italia, qui si risparmia molto, inoltre sopra i 50 dollari di spesa, la spedizione è gratuita e presto spero di farvi avere un codice, magari già nel video stesso, per avere uno sconto del 5% e quindi vi lascio al video spacchettamento e a tutto il prodotto nei dettagli. Il prodotto arriva all'interno di questa scatolina così ed era confezionato in questa busta semplice nera, vi ricordo che l'ho ritirato in posta perché era in giacenza dal momento che in quei giorni in cui mi è arrivato io ero in vacanza, quindi non l'ho potuto ritirare e fortunatamente è arrivato con la posta, quindi si hanno 30 giorni di tempo per ritirare il pacco, altrimenti penso che se me lo avessero inviato col corriere sarebbe tornato subito indietro dopo qualche tentativo di recapitare il pacco. Proviamo a vedere subito dentro com'è, l'apertura è molto semplice così, io ancora non lo avevo visto, quindi lo sto spacchettando proprio con voi e all'interno c'è un altro pacchetto eccolo qui, di questi con le palline diciamo con le bollicine per salvaguardare il prodotto quindi un'ottima protezione e sotto si trova proprio la bustina, vedete è proprio la bustina tipica da regalo, comprato diciamo in gioielleria, vediamo subito all'interno di questo pacchetto cosa troviamo, ed ecco qui il prodotto che è confezionato all'interno di questa scatolina carinissima, proprio anche questa simile gioielleria, stile gioielleria. Ho utilizzato un po' l'immagine per farvi vedere meglio la scatolina, si apre in questo modo semplicemente sollevando il coperchio e all'interno si trovano tutti i vari prodotti. Allora, innanzitutto all'interno di questa bustina è contenuto il bracciale stesso, proprio la base del bracciale che è questa cordicella, è tutto realizzato in argento e poi troviamo all'interno i vari charms. Tutti i charms sono contenuti all'interno di queste bustine e sono in tutto 6. Dopodiché si trova anche il panno per pulire il bracciale, è veramente molto carina secondo me come presentazione, poi se volete potete ovviamente mettere direttamente il bracciale se per esempio volete fare un regalo già completo all'interno della scatolina. Ed ecco qui il braccialetto, vi faccio vedere quali charms ho scelto. Ho scelto, ho ricevuto la macchinina rosa, questa è una macchinina tipo pronta per andare in viaggio, poi la macchina fotografica, poi ho preso questa carinissima luna con la fatina pendente che pende, questa farfalla barra fatina, in realtà penso sia una fatina, poi questo charms colore azzurro che ricorda il mare, e poi per finire ci sono il cuoricino e questo profumino qui. Ho scelto proprio dei charms vari perché volevo usarlo tutto l'anno diciamo non solo in passanza, quindi è completo. Ovviamente poi si possono aggiungere tantissimi altri charms per renderlo molto molto più carino. E niente, spero che il video vi possa essere utile, ci vediamo alla prossima, ciao!